Nell'aula del Consiglio Comunale di Via Verdi, ieri si è tenuta l'assemblea finale della simulazione del Parlamento europeo dell'Istituto Siani di Via Pietravalle. Gli studenti di quattro classi di terza, accolti dal Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Fucito, hanno simulato le varie fasi della seduta del Parlamento europeo, un'attività che rientra nel progetto Model of European Parliament, che ogni anno coinvolge giovani di tutto il continente per sviluppare il sentimento di appartenenza all'Unione europea ed una partecipazione più consapevole alla sua costruzione. Seguendo le regole del dibattito europeo, i ragazzi hanno discusso le risoluzioni di tre commissioni, su argomenti come il miglioramento della qualità delle acque per il consumo umano, l'istruzione nell'era digitale e le reti di trasporto transeuropee. Il progetto prevede sessioni di istituto regionali, nazionali e internazionali e quest'anno Napoli ospiterà in autunno la sessione nazionale.